in città cadono no allora per favore basta però è natale auguri a buon natale buon natale a tutti il cappello il cappello non ce la giri quindi me la dai la parola per due secondi si ok no te mi hai preso un profilo infatti se è così ragazzi a questo punto dobbiamo fare gli auguri di natale cara Esther dai cappellini così sembra nei vestiti di rosso Peppe con il cappello e quindi che cosa dire le solite cose beh sì comunque bisogna ricordare cose come speriamo che possa essere un Natale pieno di serenità felicità e insomma tanti tanti auguri da parte mia di Lorenza e di Peppe però soldi tanti soldi però io voglio dire una cosa davvero seria mi raccomando cercate di fare un'azione buona prima di Natale di aiutare delle persone che magari hanno più bisogno di noi e delle persone che stanno sofferenti vi assicuro che vi sarà utile molto utile davvero buon Natale abbiamo bisogno tutti di tanta serenità e ricordate che in città a Natale accadono no 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 almeno a Natale no per favore tanti auguri di buon Natale buon anno auguri auguri buon anno persone 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 Grazie.